Qual è la differenza sempre ovviamente nel momento di guida tra un anziano e un giovane, magari un neopatentato? Sicuramente ci sono due differenze, una riguarda le condizioni di salute e una riguarda l'esperienza. Le condizioni di salute sono sicuramente di solito a sfavore della persona di una certa età, l'esperienza è a suo favore. Il neopatentato ha sicuramente poca esperienza, poca dimestichezza e con la circolazione stradale e con lo strumento autovettura, mentre l'anziano questo tipo di esperienza ce l'ha di sicuro. Invece per quanto riguarda le condizioni di salute è possibile che una persona di una certa età abbia condizioni di salute meno brillanti e queste debbano essere oggetto di una maggior attenzione, di una maggior cautela valutativa. Gli anziani devono eseguire dei controlli per il rinnovo della patente? Le norme si sono succedute tra il 2010 e il 2012 in maniera opposta. Nel 2010 si era detto che tutti gli ultraottantenni vadano in commissione patenti, vuol dire un accertamento condotto da una commissione composta di quattro persone, una delle quali è un ingegnere della motorizzazione. Dopo circa un anno e mezzo il governo Monti nel decreto semplificazioni eliminò quest'obbligo per cui il soggetto ultraottantenne in buona salute o che dichiara di essere in buona salute va regolarmente al medico monocratico, quindi alla ASL piuttosto che all'autoscuola. Quelli che vengono in commissione patenti perché segnalati con qualche patologia, anche minima, la commissione patenti fa un accertamento aggiuntivo che riserva di solito o a situazioni particolari o appunto agli anziani e cioè la prova di guida. La commissione si compone, come dicevo, con la presenza di un ingegnere della motorizzazione e l'ingegnere nel parcheggio vicino alla sede della commissione provvede a fare una prova di guida controllando appunto alcuni aspetti fondamentali della conduzione di veicoli. Se il cittadino non si presenta con la sua autovettura lo rimandiamo ad un'altra occasione in cui si porti dietro la sua autovettura perché è chiaro che un anziano magari ha difficoltà a guidare l'auto del figlio o del nipote che l'hanno accompagnato a visita. E allora riserviamo loro un nuovo appuntamento per consentire questo accertamento che ci aiuta in maniera assolutamente efficace a verificare le modalità di conduzione della vettura.